Bella ragazzi, prima del video mi raccomando non dimenticatelo, fate un salto nel primo link in descrizione Instant Gaming ragazzi, dove troverete un sacco di roba super scontata tra cui anche i bundle di Fortnite con i V-Bucks primo link in descrizione, Instant Gaming Wey, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono Xyuder e oggi ragazzi voglio parlare con voi di 8 nuove teorie, nuove idee che sono riguardanti ovviamente il grande evento della tempesta che pochi giorni fa ha travolto completamente la mappa di Fortnite quindi ragazzi ci saranno un sacco di idee, un sacco di news un sacco di cose che vale la pena parlare tra cui ovviamente il nuovo bunker ragazzi parleremo anche del bunker, parleremo soprattutto anche dell'evento Butterfly ragazzi non so se ve lo ricordate quello che nell'ultima season, la season numero 6 ci aveva un pochettino lasciati non lo so con l'amaro in bocca ragazzi lo andremo a vedere ma prima vi ricordo sempre di lasciare un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto iscrivetevi in tantissimi al canale e non dimenticatevi di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica nessun leaks, nessun aggiornamento su Fortnite ma prima ragazzi ovviamente la domanda non posso non farvela ed è una domanda abbastanza semplice dai oggi è facile qual è la tua preferita tra le due? preferite il re dei ghiacci o la regina dei ghiacci? ditemelo qua sotto nei commenti che ci tengo tantissimo a sapere cosa ne pensate la mia è il re dei ghiacci assolutamente mi piace veramente molto molto di più ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito con la prima teoria e parliamo ovviamente ragazzi del grande evento della tempesta perché è successa questa cosa ragazzi? che cavolo vuol dire? allora il re dei ghiacci ragazzi abbiamo visto ha voluto ricoprire completamente la mappa con una tempesta che ha congelato totalmente tutte le zone ma perché l'ha fatto ragazzi? perché molto probabilmente sa che la regina dei ghiacci la skin che è uscita ieri nello shop come ci mostra l'immagine ufficiale pubblicata da Epic Games ha il pieno controllo sulla legione dei ghiacci questa immagine fa capire benissimo come è al comando di tutti i nuovi mostri che sono apparsi con i frammenti ghiacciati del cubo quindi ragazzi l'aiuto della regina dei ghiacci con la sua legione e il potere del re dei ghiacci ha fatto sì che la mappa venisse nuovamente messa sotto attacco e quindi lo scompiglio e il caos di nuovo dominano tutto quello che stiamo vedendo ma andiamo avanti ragazzi con l'idea la teoria numero due ovviamente sempre relativa alla tempesta un pochettino più particolare ve la ricordate ragazzi questa immagine? dai che ve la ricordate questa ragazzi era la nebbia la tempesta insomma il nebbione che si vedeva nella fine più o meno nelle ultime tre settimane della season numero 6 ed è molto interessante come il collegamento ragazzi di questa nebbia è ovviamente il collegamento che abbiamo con la mappa di questa season 7 che sta giungendo alla fine molto probabilmente ragazzi la nostra mappa di fortnite era già un obiettivo del re del ghiaccio probabilmente perché il suo regno molto potenzialmente si stava già sciogliendo e quindi ha trovato come unica via d'uscita per crearne uno nuovo ovviamente la nostra mappa di fortnite e ragazzi sicuramente ce la sta mettendo tutta per predominare ma andiamo avanti ragazzi e parliamo nella teoria numero 3 ovviamente del cubo ma questo cubo ragazzi ritorna non ritorna che cavolo di fine ha fatto allora probabilmente ragazzi il cubo è già arrivato ma quelli di Epic Games hanno fatto una mossa molto intelligente non riproponendolo in forma appunto di cubo come la conosciamo noi come lo abbiamo già visto perché ragazzi se ve lo ricordate noi sappiamo che i frammenti del cubo che sono dispersi a sponde del saccheggio sono ovviamente parte del cubo classico che tutti conoscevamo ma sappiamo anche ragazzi che tra le mani del re di ghiaccio c'era un frammento di cubo ed è probabilmente il potere di questo frammento di cubo che è stato utilizzato per poter sprigionare la tempesta quindi in un certo senso il cubo è come se fosse già tornato e ci sta che non l'abbiano rimesso come cubo normale quindi ragazzi andiamo avanti e vediamo un attimino nella numero 4 i mostri ragazzi i mostri sono un altro chiaro esempio che il cubo c'è perché se noi guardiamo quelli che eravamo abituati a vedere quindi i mostri che sponavano dal cubo con i mostri che invece abbiamo adesso beh c'è da dire che sono veramente uguali ragazzi e se ce lo ricordiamo il potere del cubo con i suoi frammenti generava i mostri quindi è lecito pensare che il cubo sia stato utilizzato anche perché ci sono i nuovi portali che generano i mostri ghiacciati quindi un'altra teoria che conferma assolutamente la presenza del cubo nella mappa ovviamente ragazzi tutti ci chiediamo quando cavolo finirà chi porrà fine a questo evento non vi preoccupate che ve lo dirò adesso tra pochissimo andiamo avanti ragazzi e rimaniamo sempre a tema del ghiaccio e della mappa ovviamente come sapete ragazzi la mappa è completamente ghiacciata e c'è la forte probabilità che questo ghiaccio rimanga per un bel po' ed è anche molto probabile che comincerà a sciogliersi a zone ragazzi non sarà una cosa immediata purtroppo abituiamoci a vedere la mappa con il ghiaccio non rimarrà così per sempre ma ci vorrà veramente parecchio prima che si scioglierà e vi voglio spiegare anche il perché ragazzi andando avanti ovviamente parliamo prima di tutto della skin segreta ragazzi la skin neve quella che si sblocca con il completamento di 60 sfide settimanali la prima skin ragazzi che viene regalata così in là con la season di solito si arrivava verso la stagione la settimana 7 a sbloccare le skin qui invece ci arriveremo solamente nella settimana numero 9 un altro elemento che potrebbe farci capire quanto durerà circa tutta la mappa congelata e potrebbe ragazzi davvero essere questa la skin che si collegherà con la storyline e che riuscirà a terminare per l'ennesima volta il potere del ghiaccio e del cubo in sé ma andiamo avanti ragazzi e parliamo non possiamo non parlare del nuovo bunker ragazzi il bunker che è presente a sud della mappa e che è davvero ragazzi identico al bunker che conosciamo a Bosco Blaterante presente dalla season numero 4 c'è quasi certamente un collegamento con i due con i due bunker anche perché ragazzi se noi sulla stessa isola dove c'è il bunker nuovo spacchiamo il pavimento della casa troviamo al di sotto un rift permanente rift permanente che come sappiamo è presente anche nel laboratorio di Bosco Blaterante e c'è da dire ragazzi che è molto molto strano che queste due cose siano entrambe presenti in maniera così uguale questo ragazzi mi fa pensare che molto probabilmente c'è un collegamento tra tutto ciò ed è sicuramente molto probabilmente collegato con l'evento butterfly quello che abbiamo visto quello che è stato un pochettino come dire che ha spiazzato un po' tutti perché nessuno in realtà ha mai capito bene quale sia stata l'effettiva nascita generazione e il perché di queste farfalle di queste butterfly ragazzi che non erano altro che piccoli rift in miniatura beh ragazzi penso che ci sia qualcosa al di sotto della mappa di Fortnite sono i due bunker i cuniculi i rift sotto beh ragazzi se è vero che con il nuovo con l'evento butterfly il cubo Kevin quello viola è stato definitivamente sconfitto beh allora è molto probabile che ci saranno delle nuove farfalle che sconfiggeranno allora anche questa tempesta e chissà che la skin segreta non faccia davvero parte di quello che potrebbe esserci al di sotto della mappa beh ragazzi io spero che queste teorie vi siano piaciute che vi abbiano un pochettino messo qualche pulce nell'orecchio per pensare un pochettino al di fuori degli schemi su quello che stiamo vivendo in Fortnite vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video un bel pollicione in su iscrivetevi tantissimi al canale noi ci vediamo presto ciao ciao Grazie a tutti.